E ciao a tutti amici sono sempre il vostro amico Filiberto E quello che ha sentito volare il mio amico Marco Che adesso ha in testa un pupazzo di un T-Rex E quindi siamo molto sani di mente E ciao a tutti amici sono il vostro caro amico Filiberto E oggi sto imitando Filiberto Potremmo fare un video solo per questo che dura 5 secondi ma dobbiamo farlo Sei col caro che lo facciamo Vabbè Siamo oggi su Minecraft Viva Minecraft E creiamo un mondo di sopravvivenza Allora ragazzi come creiamo il nome del mondo Il nome del mondo No un attimo I No no Non diamo un nome al mondo No Sarete voi ragazzi nei commenti a dirci il nome di questo mondo Oppure anche in un sondaggio No nei commenti Sì meglio Scriveteci nei commenti il nome del mondo Questo è per questo Siamo Un po' da solo un po' da solo un po' con Marco Sì Poi se farò qualcosa da solo e tornerò a giocare con Marco Soprattutto con me Sì soprattutto con lui Però se farò qualche video Però ragazzi vi assicuriamo che saremo solo io e lui Non ci saranno altre persone in questa serie No 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 Non ci saranno altre persone O magari entrerà qualche intruso lo saluteremo e bla 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 Ragazzi in questo momento siamo a casa mia Io sto guardando un leggo che ho fatto Ehm vabbè Siamo a casa mia perché ho invitato Filiberto a mangiare una pizza Viva le pizze E i miei non ci sono Non ci sono nella stanza No non ci sono la sera Vabbè Caldo Ventilatori Sotto nei Sotto Sotto Ma anche no Ma anche no Viva 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 i Pantellas Comunque scrivetemi sotto nei commenti Il nome che voleste per questo mondo E se volete che la serie continui Scrivete sotto Hashtag Viva il Ventilatore No No Hashtag Forza Minecraft Sì E poi scrivete I Ventilatori Li amo Eh sì 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 Dai Basta Non facciamo scrivere un sacco di cose perché Sì Scrivete solo il nome Il nome del gioco e Hashtag Viva Minecraft Del mondo Sì del mondo Hashtag E poi Mike Vabbè è uguale Mike Scrivete come vi pare Scrivete quello che volete Ecco Però anche il nome del mondo Se volete saperlo anche io Prima o poi Aprirò Una serie Un canale Un canale YouTube Vabbè Difficoltà Normale 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 Mappa di avvio Cassa bonus Sì Ma sì anche la mappa di avvio Ma sì No 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 Tipo di mondo Seme Seme Giornata di neve Fiume tortuoso Campo di girasoli No Ci sono un sacco di fiori No Grande osi dell'esame No no La isola del villaggio No Non mettiamo qualcosa del Non mettiamo le cose del villaggio perché Se no non troviamo gli animali Monumento oceanico in vista No Mettiamo tipo Villaggio Loccaforte Villaggio Loccaforte No no Fermo Fermo Villaggio Loccaforte Può andare bene però Io ho visto qualcosa Isole sopravvivenza Fiume Forse fiume tortuoso No fiume tortuoso no Baianella cos'era? Baianella taiga No Lì non c'è Per tutto niente C'è viaggio sulla scogliera Che c'è pure la strega Ma non voglio Villaggio Villaggio dei picchi di ghiaccio Questo si Ah no no Non troviamo animali Non troviamo le pecore Villaggio Loccaforte allora Villaggio Loccaforte Villaggio Loccaforte va benissimo Diretta simulazione 8 tranci Aspetta No non ha cambiato niente Fuoco amico Cioè Non ho ancora capito cosa vuol dire Aspetta Che magari Se sei multiplayer Puoi fare male al tuo amico Ok Rilascia blocchi Usa gioco sperimentale Attiva i trucchi Circolo diurno Mantieni l'inventario Mantieni l'inventario Subito Generazione Sì Sì Infatti discrivature Tutto 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 quello che serviva Nome del mondo Villaggio Loccaforte Cancelliamo Che ce lo direte voi Intanto creiamo il mondo Che poi Yeah Delfino Ho visto un delfino Che bello Un attimo Pecora 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 Dov'è la cassa Prendi la cassa Prendi l'ascia Subito Prendi solo l'ascia Solo ascia Chiudi Vai a uccidere la pecora Ok Intanto c'è di angi Che siamo in piedi È vero Un attimo No Niente alghe Vai a uccidere la pecora È più importante In effetti C'hai ragione Ci facciamo un letto Beh con una pecora Non basta Mi servono Massimo due Cioè minimo due Massimo tre No ce ne ha dato uno Quindi È molto più probabile Intanto io tolgo la zucca Fai bene Sai Fai bene Le zucca Cavelli Prova a cavalcarne uno No è vero Però serve la sella Torno alla cassa Ora mi prendo le alghe Non c'è santo Eh Oh vi ho visto una cosa Queste No Le voglio respirare Dei pesci Uccidili Uccidi Uccidi il pesce Uccidi il pesce Con l'ascia Con l'ascia Quale Quale Quali Vai Veloce Dai attacca Attacca Sì Vai Pikachu Attacca Usa Bollaraggio Perché Sei di tipo acqua Pikachu C'è tutta un'altra cosa Il tipo acqua Dal tipo eletto Quello lì è salmone Vabbè Basta tornare a casa Oh cavolo Ho lasciato le zucche Perché hai lasciato le zucche Ma perché hai fatto Fermo Ecco Eh non ci penso io Pane Viva il pane Abbiamo le carote Abbiamo le carote Viva le carote Possiamo Possiamo piantare le carote Quello cos'è Questa è Barbaglietola La barbaglietola Abbiamo anche il cacao Abbiamo anche il cacao Anche il cacao Spero Ne ha trovato quattro Ed è spawnato direttamente La notte Ma dai Se spawnava di giorno Aveva culo Ecco Molto Invece è spawnato di notte No 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 Non prendere le alghe Arrivano i mostri Hai visto Che ti ho detto Cosa ti ho detto Questa abbiamo Il mantino inventato Ma fa niente Arrivano i mostri Ok Oh C'è il delfino Uccidilo Ma arrivano i mostri Allora Dai a me Dai a me Tata ruga Uccidilo Via Volume massimo Ma i mostri Puoi fare C'è bel colpo Perché? Ci facciamo la casa qua Ma noi avevamo messo Come se mette al mondo Molta cosa Eh lo so Però spawni A caso C'è Sarà nei paraggi Tipo Allora andiamo Che poi è bellissima Abbiamo la terra Eccolo Che cavolo Che c'è della terra Oh Ancora Eh No Amolo shift Amolo shift Che c'è Amolo shift Ah Non come i giochi simili a minecraft Molto tarocchi Abbiamo finito Possiamo saltare Non come i giochi simili a minecraft Eccolo Eccolo Eh sì Un attimo Devo Aspetta Non ti posso Non vedremo si facciamoli facciamoli boh volevo dire facciamoci la casa facciamogli la casa ai mostri oh sarebbe bello poi li uccidiamo viva e ce la prendiamo noi ma io voglio trovare quel villaggio anche io hai ghiaccio nooo ghiaccio dal tarughe ti danno cose il guscio eh si ti danno il guscio mi pare che si potesse fare qualcosa col guscio al massimo usiamo il libro tanto sono lente sulla terraferma mi pare che con l'asce no che l'asce si fa più danno non ha detto che ti dai ci ha dato ho sentito no ci ha dato le al anche l'anno da caduta sul ghiaccio scivola quindi è più veloce aspetta che si avvicina no 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 sennò viene in acqua sta andando in acqua no esperienza beh esperienza siamo quasi a livello no ci sono i mostri io non li vedo vabbè ma i pesci ti portano a dirci da loro ma quanto sono brutti i pesci cattivi l'orso polare l'orso polare no 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 non attaccarlo sai che ti fa un sacco di danno no è vero è vero attaccalo aspetta ti lascia il pesce se muore aspetta slash imposta punto generazione vai vai adesso risale e tu lo colpisci vai vai perfetto è una tattica bellissima perfetto ma non si può vedere quanti quelli ha no purtroppo no ma tanto con l'ascia gli fai tanto danno eh no è quasi rotta ce la rifaremo tanto ci sono tanti alberi qua è vero e abbiamo anche tanta legna infatti pesce vedi pesce pesce forse è anche cotto no credo crudo sì però crudo è crudo è crudo ma non lo prendiamo il ghiaccio è un cattivo no per prendere il ghiaccio mi sa che serve il il non mi viene il nome non mi viene il nome è presente che per prendere tipo la terra con l'erba il fake touch sì il fake touch vabbè si può prendere la neve no perchè non mi ha dato la neve ho un pezzo di terra non la neve ciao phil perchè perchè stai facendo cose con un dinosauro e per cosa intendo cose cose mua ah che schifo il dinosauro bravoli credo sia femmina sai cosa dovremmo fare? rifugiarci qua dentro sembra una buona hai trovato un colossale robo di ghiaccio ma no ma poi qua ci viene freddo come faccio a venerci freddo? beh in effetti siamo d'estate cosa ci fa il ghiaccio d'estate? ma è compatto non si scioglie ah vero ma siamo al palo nord aaaaaaah se non lo sapete il dinosauro beh ovvio che non lo sapete il dinosauro mi ha morsi le palle aia l'unico commento che osa dire aia dobbiamo arrivare in cima dobbiamo salire aaa aiuto intanto c'è Marco che fa cose io non mi chiamo Marco io l'altra è il mio soprannome come ti chiami? Andrea lo sai anche tu ma cosa? è vero io non lo sai ma io ho un secondo Andrea è la verità si è la verità è la verità è la verità è la verità della verità è la verità della verità lo so ti fai un profilo? di cosa? instagram book twitter no no rompi ok che stiamo spostando potrei fare una cavolata aia 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 andiamo a suicidarci andiamo a suicidare ma la casa la mettiamo qua quindi no fermo fermo no 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 la casa non la facciamo qua la facciamo sulla palle aia so io ti trovo io il punto adatto no prima suicidiamoci c'è un ragno 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 c'è un rag costruzione ho anche un libro sulla costruzione in minecraft non in minecraft ma su minecraft chissene tanto ci può anche uccidere non possono uscire è vero possono uscire di notte non lo vorrei uccidere con piccogna moglie la testa morto sono un genio la c'è un ragno ma non mi ha visto per fortuna facciamo qua la casa subito non possiamo aspettare onda energetica no non mi hai fatto male guarda la lava aspetta sai io un modo sai io un modo cosa aspettiamo fermi la notte scaviamoci un buco ma cosa aspetta no è giusto è giusto me lo tappo ciao ok ragazzi qua crede che non sappiamo se è finita ok questo è legno perfetto sì 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 e uiwa e ui perché è uiwa non lo so ma so che mi metto una zucca in testa no non posso no ma sì che puoi ecco aspetta no non puoi aspetta un'idea ma non possiamo ah i semi di zucca sei un grande fatto perfetto e ora siccome abbiamo una zucca no non me la posso mettere cavolo perché abbiamo due cacate staccate io sono marco e tu sei filiberto questo l'avevo capito io mi chiamo gilberto stai fermo aiuto faccio io faccio io bene no scassavo ma come possiamo costruire qualcosa ecco aspetta con questo aspetta facciamoci un'altra accetta facciamoci un'altra accetta va bene però prima ci facciamo la casa perchè ho scelto non lo so che bello il picco di ghiaccio di giorno picco di ghiaccio di giorno viva il picco di ghiaccio di giorno la piccolina aspetta 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 almeno non col piccone genio è vero a mano oppure con i fiori con i fiorellini all'inizio volevo uccidere il mosto con i fiorellini che poi l'abbiamo ucciso non mi ricordo si l'abbiamo ucciso piccolato come fai non ricordati eh fa niente io non mi ricordo e basta no 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 fermo 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 un corno io non ho le corna fermo due corna io non ho un corno gilberto due corna perchè? fai fermo cavolo cavolo la casa più bella del mondo wow veramente? la vedremo miracolosamente non pensavo fosse così tu insomma ecco un modo per risparmiare per risparmiare i blocchi aspetta stai fermo ti spettino questo albero questo albero è altissimo ti immagini adesso rompo questo blocco e esplode tutto boom ragazzi c'è cresciato il mondo io non sto toccando più niente giuro neanche Filiberto si vede il tuo dito in realtà non si vede ah è vero c'è il pallino wow aspetta dobbiamo mangiare dobbiamo mangiare ci abbiamo fame c'hai ragione meglio 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 quello che niente io adoro il legno di abete lo adoro ma in realtà lo adoro io odio il legno di abete lo odio scherzo ecco appunto lo distruggiamo lo odiamo il mio legno preferito è quello di quercia scura quale ciascuna no a me non piace è il mio legno preferito secondo me dovremmo installarci un modpack e fare una serie tipo la failcraft di lion o tipo una di fortnite su minecraft no quello no anzi si quello si prendiamoci i sapling poi poi dopo possiamo riprendere i sapling ah no il legno di abete mi piace viva il multicolore magari non con piccone oh siamo dei geni culturali e beh perché culturali così a caso mi sembrava strano che tu dicessi parole sensate e non a oh oh fermo 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 piccola piccola orso polare orso polare te lo vado a prendere io te lo vado a prendere io perfetto no anzi si gli ha fatto danno però l'ha fatto anche a noi vabbè tanto noi recuperiamo la vita ci abbiamo la barra un perfetto pesci tanti pesci ok basta basta un sapling tanti sapling legna col piccone tanto perché non c'ho voglia di cambiare oggetto dopo dobbiamo prenderci anche la pietra troviamo la coble stonne attento al mostro attento al mostro tanto deve ripararsi deve ripararsi non può uscire fuori vai 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 stai attento dammi aspetta se mi segue fuori dovrebbe prendere il fuoco no no ho un'idea ho un'idea viva i sapling vedi 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 mi ha fatto prendere il fuoco mi ha fatto prendere il fuoco ok intanto filiberto che si fa un dinosauro davvero lo posso no fermo fermo un'altra polare no basta corsi polari no non è il migliore scuola ma fa niente basta bene che paura no aspetta no fermo banco da lavoro happy birthday to you happy birthday philibert happy birthday to you mettiti lì e uccidiamolo mettiti qua si e uccidiamolo ahahah ahahah brutto happy birthday happy birthday meee perchè boh così a caso ma ci stai fissato con sto dinosauro no ah ma lo stai sbacciucchiando in realtà era lui vabbè 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 sai che quello di un dinosauro è maschio? eeeh si chiama tirri è dura la vita che non c'entra niente ma è comunque dura la vita hai cinque pezzi un due tre quattro te ne avanza uno buono devo uccidere quel rosto polare no devi uccidere quel rosto polare ma stai vitto va ma cosa fai lì ma cosa fai lì ma cosa eeeh spegna aspetta dobbiamo prendere qualcosa nell'inventario nooo aspetta no no lo rompiamo dopo l'albero e poi lo rompiamo proprio con quella cosa che dobbiamo prendere dall'inventario no sennò la finiamo no non è quella cosa che voglio prendere è un bel pesciolone crudo ah giusto c'hai ragione bel pesciolone quale? pesce crudo o salmone crudo? pesce pesce crudo pesce crudo pesce crudo comunque tutte e due presi dall'orso abbiamo le torce? si le torce sono la salvezza dell'umanità adesso andiamo qui mi faccio una canna ma perchè? perchè? vedi? una canna ma perchè? io le adoro le porte diabete diabete io adoro quelle di quercia oscura quelle di diabete e poi io non mi ricordo ne hai fatte tre? ne conserviamo qualcuno nella cesta? lo so perchè con si con se ne fai tre lo so allora questi qua i blocchi ci servono quelli di terra no gemino tablino aspetta facciamo così va eeeh mettiamo poi questi poi questi poi ah non è vero il pesce? no il pesce lo teniamo eeeh poi i funghi il zucca zucca il pane no il pane lo teniamo anche il pesce anche il pesce anche il pesce le torce lo teniamo gli stick la lana teniamoli no questo no questo lo dobbiamo convertirlo si è vero questo lo teniamo questo 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 questa la teniamo ok aspetta no stiamo a posto eeeh 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 per no mettiamoci almeno una spadona perchè è rotto ormai oh viva le piccozze di legno si è bugato viva i bug viva i bug oh dobbiamo fare i cosi gli stick gli stick no come sempre va conservato il primo piccone e anche la prima accetta no la prima accetta no eh no tanto abbiamo settato lo spawn point proprio nella casa veramente? si no non è vero non eravamo nella casa quando abbiamo settato lo spawn no non eravamo nella casa e allora mettiamolo dove si troverà il nostro futuro letto no non qua non qua guarda lo metteremo qua 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 spawn point imposta punto generazione ok ok aspetta ho visto una cosa che dobbiamo no cos'è? non lo so vediamo con si ah le coordinate credo no Phil Phil cosa hai fatto? io non ho fatto niente si si sei piantato da solo è stato il gatto è stato il gatto è bello no perchè? 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 ne ce ne sono ne piazzi 1 ne rompi 1 ne piazzi 2 guarda adesso adesso ne metti 3 no adesso ripiato un algostello di abete un capling e tengo la mano vuota intanto mi metto il piccone nella roba intanto mi metto il piccone nella roba no sta lì mi faccio perchè hai preso il ma si ce la mettiamo nella roba no facciamone due ah idea 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 quella era la mia idea non metterlo lì perchè sennò si elimina una vicenda oh intanto prendi un prendi un bel salmonozzo crudo rumore assordante no ok ok ora non abbiamo ancora finito eh boom facciamo prima dobbiamo andare là dove c'è la lava fermi sai una cosa quando ci manca il cibo suicidiamoci tipo però adesso no no non ci manca il cibo quindi non possiamo infatti che noi decidi di provare a farci un'armatura anche di pelle dove la troviamo cerchiamo cerchiamo intanto io prendo qua che pizza vuoi? mi piacerebbe non lo so quindi grazie facciamolo 9 per 9 cosa? cosa? sai mi è venuta in mente 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 rimette la terra no no si andare in casa cosa vuoi fare? intanto mi metto la torcia qua ma io voglio farmi innanzitutto ci facciamo degli stick che mancano un oe vuoi fare? ecco no no fatti no 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 togli cosa fai? almeno chiudi la porta che c'entrano gli zombie brutti zombie cattivi io adoro il rumore dei pulsanti fatto a vuoto cosa vuoi fare? caverna ho capito che vuoi fare una caverna ragazzi rompiamo questi due blocchi ragazzi noi adesso andiamo a scavare un sacco ci rivedremo tra un po' ok siamo appena usciti abbiamo scavato tantissimo guardate 53 di cobblestone una gravel vabbè abbiamo trovato 15 di ferro adesso faremo sicuro una fornace poi ci faremo e ci faremo l'armatura no dobbiamo aspettare l'armatura fai la fornace di sicuro ci facciamo la fornace fatto ecco una fornace ok allora adesso ci serve l'alimentazione mettiamola qua no non lì mettiamola qui anche alla cesta va bene o sopra la crafting table no facciamo la cesta no 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 sopra la crafting table si sopra la crafting occupiamo meno spazio sopra la crafting prendiamo qualche materiale inserisci guarda tutto il ferro tutto il ferro e poi dobbiamo prendere del materiale ci crederete abbiamo trovato neanche uno di carbone neanche uno neanche uno manco mezzo intanto poi la regna te la rifacciamo intanto la regna la rifacciamo intanto usciamo un attimo il giornato più e giorno ecco beh prima ci prendiamo delle canne da zucchero si e ripiantiamole guarda 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 me prendiamo le canne si si prendiamo le canne da zucchero guarda adesso che ne abbiamo scegliamoci un punto bello tipo lì tipo qui che piano di alghe ci piantiamo un'altra pianta è l'arma sono togliata come steppi nella sua nella sua amazing minecraft si aspetta devo fare una cosa ci prendiamo della la salada quindi adesso torniamo alla casa sta anche diventando notte ok volevo non pensare quindi adesso Marco ha messo in pausa anche se non dovevamo Marco Marco eh senti scusa volevo vedere una cosa eh sono già 22 ma non 21 minuti ventilatori tutta la vita ahi non vorrei chiudere il video in cima faccio io ovviamente se volete vabbè tagliamo mentre saliamo si scusate una e quindi questo video termina qui se volete un nuovo episodio in questa serie con Marco o se non se non io se non riesco senza Marco tanto lui tanto all'inizio del video con Marco gli faremo vedere i progressi se volete un altro video lasciate 21 like 21 non 20 perché così è più swag aiuto e quindi io vi lascio mangiando il pesce e quindi ciao ciao